Goloso Awar 4-4, 90 di dribbling quindi sarà super agile infatti, intercettazioni buone, questo secondo me sfruttato al massimo mezzala, mezzala nel 4-3-2-1, nel 4-3-1-2, da fare assolutamente secondo me sì perché comunque costa pure poco, se vi serve sì, se no no perché comunque è una bella carta. Da fare Awar nel 4-2-3-1 in mediana con Kanté, ecco già secondo me nel 4-2-3-1 soffre, però comunque l'elettura difensiva 72 non è male.